...chiamata Basso, che sta per Basso, in giro per il mondo. Un'incredibile serie, dove in ogni episodio scegliamo una nazionale... Ma perché me ti vedi sti cazzi? T'ho fatto una domanda, rispondi! Se parla! Ma guarda questo... Ma io... Ma... Ma cosa dici? No, ma vai a scuola, professoressa, te chiede... Quando... Quando... È finita la seconda guerra mondiale? Boh, sti cazzi! Così, rispondi!